Di fronte a questa crisi della globalizzazione c'è chi pensa di chiedere più Europa, più vincoli, più interdipendenza. Noi invece chiediamo più sovranità, cioè riteniamo che per governare la globalizzazione bisogna ripartire la sovranità nazionale e popolare, cioè ripartire dai popoli e dalle nazioni. Solo così torneremo padroni a casa nostra. Il Movimento Nazionale per la Sovranità arriva anche ad Arezzo. Il nuovo soggetto politico di destra che fa capo a Francesco Storaci e a Gianni Alemanno il lunedì mattina si è infatti presentato in città. Le tesi che abbiamo approvato al congresso di un mese e mezzo fa sono lì scolpite come elementi per una nuova politica che consenta finalmente agli italiani di trovare rappresentanza sui problemi attraverso soluzioni. La legittima difesa è una di queste. Dentro casa dobbiamo essere liberi, sovrani a casa nostra. Sarà Cristiano Romani il portavoce provinciale del Movimento. Da oggi ci aspettano nuove sfide, una sfida impegnativa è essere maggioranza di questa città, saperla governare bene a fianco del sindaco Ghinelli. Noi lo saremo onestamente e con grande convinzione e coerenza. Prima battaglia che noi faremo perché ci sono strani movimenti sulla centrale operativa del 118, si parla addirittura di chiuderla a fine anno. Questa è un'eccellenza del territorio, fatta di grandi professionisti, di grandi medici, di grandi infermieri, di grandi operatori sanitari e non merita di essere portata a Siena. Non possiamo regalare un altro pezzo importante del nostro territorio a Siena. Il Movimento è inoltre già rappresentato in Consiglio Comunale grazie all'adesione di Roberto Bardelli. Sostegno da parte mia al sindaco e non è messo in discussione assolutamente, anzi saremo una maggioranza assoluta. È chiaro che faremo di tutto affinché il territorio possa beneficiare di questa nuova forza politica e fare di tutto affinché la giunta Ghinelli faccia al meglio quello che ci stiamo vinti nelle scorse elezioni. Assieme a Bardelli è aderito al Movimento anche Fabio Brei, vicepresidente della Casa Pia.